Una seconda puntata non prevista. Due mesi fa abbiamo chiesto ai sette prefetti del Veneto dei dati relativi al fenomeno dell'immigrazione in Veneto. Abbiamo chiesto quanti migranti arrivano, quanti vengono decretati illegalmente presenti sul territorio e quanti sono i rimpatri. La triste novità che comunichiamo è che non abbiamo ricevuto nessuna risposta, nessun dato da nessuna prefettura ci è stato fornito. Noi non volevamo fare polemiche o dietrologie varie, ma crediamo, essendo le prefetture che hanno questi dati, che questa richiesta fosse più che legittima e più che normale per un gruppo politico che in questa regione, su questo territorio, deve anche proporre delle azioni legislative migliorative di un fenomeno. Ad oggi nessuna risposta. Faremo una mozione, chiederemo che sia Zaia in persona come rappresentante di tutti i Veneti a chiedere questi dati. Solleciteremo anche il Capo dello Stato, il Primo Ministro e il Ministero degli Interni da cui le prefetture del Veneto dipendano per vedere se come cittadini e come rappresentanti eletti abbiamo diritto ad avere questi dati. Se non dovessimo avere questi dati andremo personalmente davanti alle prefetture a chiederli.